amici e amici carissimi buona serata a tutti anzi meglio ancora una santa serata a chi sta seguendo la diretta bentornati o benvenuti a questo ciclo di catechesi sul peccato originale giunta l'ottava puntata oggi apriamo la pagina abbastanza ampia dei padri latini dopo aver visto distintamente la scuola alessandrina la scuola di antiochia e i padri cappatoci avendo potuto avere già una ampia rassegna di del pensiero di questi padri volendo riassumere sono tutti quanti concordi nel fatto che la verginità era lo stato pensato da dio per l'uomo quello che caratterizzava l'Eden uno solo tra essi che è san clemente alessandrino come ricorderemo ha fatto coincidere il peccato originale con il compimento dell'atto sessuale stesso solo che secondo il peccato non fu commettere tanto l'atto ma anticiparne i tempi rispetto a quanto voluto da e presto da dio quindi aver fatto una cosa spregiudicatamente prima che fosse l'ora questa è un po' la sintesi molto molto breve noi andiamo a rileggere tutti quanti i brani abbiamo visto anche dei grandi capisaldi e vedremo che le varianti sono sempre su questo genere con qualche piccolo dettaglio però introduttorio scusate, non introduttore qualche altro dettaglio ulteriore che focalizza alcuni aspetti che poi ci saranno utili gradualmente nel corso della nostra analisi quindi dato che abbiamo focalizzato questi aspetti io cercherei proverei, speriamo, ad andare un pochino più veloce con la presentazione dei testi e degli autori fermandosi un po' di più soltanto quando c'è qualcosa di originale il primo grande autore che dobbiamo trattare è Tertulliano Tertulliano che bisogna un po' introdurre perché Tertulliano in occidente è un po' quello che fu un po' meno non a quei livelli però quello che fu origine in oriente persone intelligentissime spiriti quindi molto molto acuti con un ingegno veramente straordinario personalità però al tempo stesso impetuose e desuberanti e che successe a Tertulliano in particolare insomma che per questo per questi requisiti ecco persone di questo genere suscitano facilmente invidie e contese e quando succedono queste cose può verificarsi come reazione il chiudersi il rinchiudersi oppure lasciare addirittura la chiesa per abbracciare qualche setta un movimento ultra oltransista questo lo dico perché purtroppo Tertulliano terminò la sua vita tra i montanisti montanisti che erano una setta eredicale appunto fondato da da montano che predicava appunto come prossima la fede della fede del mondo si basava su norme morali rigidissime e vedete che le cose sono alcune cose che accadono anche adesso specialmente dalle mie parti hanno radici antiche annunciavano la discesa della nuova Gerusalemme celeste in una località della Frigia pensiamo un po' adesso non so quanti sanno che esiste un posto in Italia non molto lontano da qui dove dicono che la nuova Gerusalemme celeste scende lì forse non sanno che Sertulliano è il visuto nel terzo secolo quindi pensiamo che si è convertito lui nacque a Cartagine intorno al 150 al 160 e anche lui conversione adulta si convertì intorno ai 30 anni fu ordinato sacerdote quindi rimasti sacerdote non vescovo come San Girolamo del resto e anche come origine quindi a questa setta cominciò ad aderire intorno al 207 cominciò a simpatizzare vi aderì pienamente al 213 e vi rimase fino alla morte quindi anche per Tertulliano non è San Tertulliano vedremo anche negli scritti che alcune sue posizioni perché questi spiriti un po' troppo inquieti tendono ad esagerare nella vita bisogna sempre mantenere un po' di equilibrio anche quando si ha come dire un carattere impetuoso perché lasciarsi prendere questo lo dico anche diciamo come pastore per qualche considerazione diciamo così introduttoria catechetica quando si parte per la tangente come si dice tra di noi anche se si hanno posizioni o idee buone poi si rischia di andare a uscire di strada è sempre molto importante mantenere tutte le cose ma anche quando si fa teologia anche quando si fa soprattutto vita pastorale o cose di questo genere quindi calma pacatezza e moderazione nelle posizioni e nei giudizi anche quando debbano essere molto molto definiti e molto molto chiari ecco occorre però sempre badare a noi stessi e avere questa santa vigilanza perché dice il proverbio che di buona intenzione l'ha stricato l'inferno quindi ci sono casi li abbiamo già visti di geni che purtroppo sono andati a rovinarsi per alcune intemperanze non dominate del loro carattere detto questo come poesia tertuliana attenzione è una pietra miliare della patristica latina pensate che solo per dire una delle cose a cui che gli devono essere attribuite perché è sua e gli viene di fatto attribuita è l'uso del termine trinitas in latino il termine trinita che non esiste nella sacra scrittura questi per i per i neoluterani cultori della sacra scrittura che dicono che la bibbia la bibbia la bibbia se lo scritto nella bibbia non c'è credo nella bibbia la parola trinita non c'è scritta non ci sta trinitas non c'è quindi il termine trinitas fu usato diciamo nel nel teologare per la prima volta in occidente proprio da Tertulliano non è l'unica cosa insomma allora ci sono dei brani allora Tertulliano scrive due due opere che sono rilevanti per la nostra analisi qui c'è un'ampia sezione che il che il Barontini dedica a questo autore le opere sono il De carne e Cristi anzi non due tre perché fa un concenno al De monogamia il De exaltazione Carita Castitatis e il De monogamia sono tutte quante opere edite quindi che si possono tranquillamente trovare e leggere anche in lingua in lingua corrente in lingua italiana allora il De carne e Cristi come dice già il titolo viene scritto contro alcuni eretici gli gnostici abbiamo già accennato che furono un flaggello almeno per i primi due secoli del cristianesimo di fatto negavano la realtà dell'incarnazione cioè che il nostro signore Gesù Cristo avesse preso una vera carne quindi chi parlava di carne pneumatica chi parlava di carne psichica quindi una sorta di è come dire di fantasma visibile sarebbe stato nostro Signore Gesù Cristo quindi questo chiaramente influiva anche sulla su quello che era successo realmente nella Vergine Maria che cosa è successo nella Vergine Maria ecco perché gli eretici evidentemente non ammettevano che la Madonna potesse essere Vergine e Madre negavano la vera materialità della carne di Cristo e negavano la perpetua Vergine della Madonna ora in questo scritto anzitutto Tertulliano comincia ad opporre queste cose agli eretici cito come possono i cristiani dicono loro affermare che Maria è Vergine perché non ha conosciuto uomo se ritengono che la carne del Cristo è di natura materiale e quindi nel parto ha necessariamente violato la verginità fisica quindi è l'argomento capsioso no? dice se è diventato veramente uomo ha violato la verginità fisica se voi dite che non ha violato la verginità fisica vuol dire che non è diventato l'uomo con una carne come la nostra ma c'è una ragione a noi c'è questa carne spirituale i Valentiniani quindi prosegue affermavano che la carne di Cristo non era materiale ma pneumatica cioè composta di spirito o animalis cioè composta di anima Tertulliano confuta queste argomentazioni con un ragionamento simile a quello di Sant'Ireneo se lo spirito di Dio è disceso in una matrice senza avere l'intenzione di assumere da essa la carne perché mai vi è disceso se ammettiamo invece che abbia un motivo per discendere in una matrice noi dobbiamo concludere che da essa ha preso la carne quindi attenzione argomento molto molto importante perché Dio non fa cose inutili cosa è entrato a fare nel grembo della Vergine Maria se deve uscirne spirito così come è entrato ecco detto questo prosegue dicendo innanzitutto necessario sottolineare l'importanza del motivo per cui il figlio di Dio doveva nascere da una Vergine e qui comincia a dire qualcosa rilevante per il nostro studio diciamo così per la nostra indagine era indispensabile che gli nascesse in modo nuovo per inaugurare una nuova nascita di cui il Signore per bocca di Isaia pronunciava che avrebbe dato un segno e qual è questo segno? ecco la Vergine concepirà nel suo grembo e darà alla luce un figlio Isaia 7.14 la Vergine dunque ha concepito e partorito Emanuele che significa Dio con noi questa è la nascita nuova in essa l'uomo nasce in Dio dopo che Dio è nato nell'uomo bella eh in frasi tipiche di Isaia di Tertuliano questa è la nascita nuova in essa l'uomo nasce in Dio dopo che Dio è nato nell'uomo questo è quello che succede veramente assumendo la carne dell'antico seme senza l'antico seme per darle nuova forma mediante la semenza spirituale dopo averla purificata dalle sozzure della sua vita precedente questa novità come accade per tutte le altre novità è stata prefigurata nel passato allorché attenzione l'uomo secondo la disposizione della ragione divina nacque a Dio per mezzo di una vergine la terra infatti piena da allora era vergine non ancora forzata dal lavoro non ancora violata dalle sementi è da questa terra come noi leggiamo che Dio fece dell'uomo un'anima vivente se questo dunque è quanto si tramanda a proposito del primo Adamo il secondo o ultimo Adamo è stato fatto nascere da Dio attraverso una terra vale a dire una carne non ancora nascerata dal parto affinché divenisse lo spirito che vivifica quindi ragionamento molto lineare anche se un po' particolare ed è questo c'è una profezia di Isaia che deve dare la vergine concepirà che partorirà nel suo grembo e darà alla luce un figlio quindi la vergine perché vergine è qui il teatro di Hano fa un accostamento un po' allegorico per plasmare Adamo dice Dio si servì della terra vergine lo plasmò dalla polvere del suolo dice il libro della Genesi e così per fare la Santissima manità di Cristo usò la terra vergine del corpo della vergine che era l'unico posto dove c'era ancora perché la terra ancora non era stata contaminata prima del peccato così come la carne di Maria era incontaminata poi abbiamo ancora una quindi la cosa fondamentale è che ovviamente San Girona San scusate Nertuliano difende la concezione virginale di nostro Signore Gesù Cristo da seme divino e non da seme umano ora più avanti ancora approfondisce non voglio tuttavia che il nome di Adamo sia comparsi inutilmente per cui domando da dove proviene l'appellativo di Adamo che l'apostolo ha riservato al Cristo se l'umanità del Signore non era di origine terrestre attenzione che Adamo letteralmente significa tratto dalla terra in ebraico perché terra in ebraico si dice Adamà Adamo è Adam senza la quindi è tolto dalla dalla terra la nostra tesi ancora una volta è confermata dalla presenza di una disposizione razionale Dio ha voluto recuperare la sua immagine e somiglianza che il diavolo aveva catturato in maniera uguale e contraria Eva infatti attenzione era ancora vergine allorché in lei si introdusse subdolamente la parola edificatrice di morte il verbo di Dio dunque dove a sua volta entrare in una vergine per costruirvi la vita quello che attraverso la donna era caduto in perdizione doveva ritornare alla salvezza attraverso il medesimo sesso Eva aveva creduto al serpente Maria credette a Gabriele il peccato che Eva commise credendo Maria credendo lo riparò ma Eva tu ribatti in quel tempo non concepia affatto per la parola del diavolo ha concepito invece la parola del diavolo infatti fu per lei il seme che la condusse a partorire nell'umiliazione e nel dolore diede alla luce infine il diavolo che uccise il proprio fratello e chiaramente parla di Caino Maria al contrario diede alla luce colui che avrebbe dato un giorno la salvezza di Israele suo fratello secondo la carne suo uccisore Dio dunque fece discendere il suo verbo nel grembo di una donna perché vi facesse nascere il buon fratello al fine di allontanare la memoria del fratello malvagio il Cristo per salvare l'uomo doveva venire alla luce da quello stesso organo in cui l'uomo era entrato dopo la sua condanna ora a prescindere dall'interpretazione utile al nostro brano che poi vedremo anche il nostro autore fa io vorrei però ampliare un pochino lo spettro per far notare due cose molto importanti che emergono in questo brano numero uno il parallelismo antitetico Eva Maria che è fondamentale per la comprensione anche del ruolo di Maria nella storia della salvezza il parallelismo Eva Maria è stato moltissimo utilizzato dai padri della chiesa qui abbiamo una prima posizione abbastanza chiara da parte di Tertulliano Eva credente al serpente Maria credente a Gabriele il nuovo Adamo doveva in qualche modo ripercorrere il cammino dell'antico Adamo in senso inverso anche qui l'idea della redenzione come l'invertire tutto quello che era stato fatto di Maria e dei progenitori è cattolicissima sarebbe poi stata approfondita in maniera assolutamente magistrale oltre due secoli dopo da San Leone Magno Papa che ha scritto delle cose assolutamente spettacolari ora dico questo perché come già accennavano le primissime puntate continuano a riparmi mail di chi sente queste catechesi qui alcune posizioni recenti particolarmente quelle che si basano già parlato su una liberazione presunta liberazione privata a un sacerdote che si chiama Don Guido Portoluzzi io ho letto qualcosa il grande punto che mi lascia enormemente perplesso quello che ho capito mi si parla di una sorta di brillazione attraverso un ancestre quindi praticamente Adamo questo peccato originale l'avrebbe fatto non con Eva quindi non è rispettato proprio l'ordine biblico cioè il serpente va da Eva Eva pecca Eva poi va da Adamo e conduce anche Adamo a peccare non è completamente fuori ci sarebbe questo essere ibrido però se uno toglie Eva come prima donna tutta quanto una serie di di verità mariane cadono per esempio c'è già la teologia del Vangelo di San Giovanni perché Gesù nel Vangelo di San Giovanni chiama Maria donna e guardate che chiama Maria donna e non mamma alle nozze di cana e sotto la croce lì la sta chiamando donna perché gli sta dicendo tu sei la nuova Eva io per te faccio il primo miracolo lo anticipo e attraverso la tua sofferenza sotto la croce si ribalta l'antica disobbedienza di Eva sotto l'albero del peccato originale donna donna se e quando se e quando ci sarà il quinto dogma mariano sulla corredentrice io spero vivamente che ci sia credo fermamente che ci sarà quando lo sa soltanto il nostro signore già più di qualche volta ha detto che immacolata 1854 assunta 1950 possiamo sperare intorno al 2050 il quinto dogma secondo me sì però questa è proprio una non è una profezia non so niente quindi è un accostamento dico se si continua a rispettare il secolo nel senso che ci vuole un secolo per digerire il dogma precedente prima di farlo nuovo va benissimo ma qualunque pontefice dovesse poi occuparsi di questo secondo me sorgerà il pontefice che farà questa cosa uno dei fondamenti proprio imprescindibile su cui fondare la dottrina della corredenzione è il parallelismo antitetico Eva Maria e qui Gian Tertulliano pone e non solo l'opera della redenzione come il rovesciamento di quello che è stato fatto da Damm e da Eva queste cose come vedremo a termine a termine della rassegna patristica vedremo poi i fondamenti biblici che ci sono qualche passaggio molto implicito di qualche testo magisteriale poi presenteremo questa dottrina negli scritti di Maria Valtorta tutte quelle cose che ho detto sono tutte perfettamente presenti come un grande mariologo del calibro di Gabriele Maria Roschini ha notato e ha scritto nero su bianco il parallelismo antitetico la 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 redenzione come rovesciamento e nel peccato originale descritto da Maria Valtorta Eva è protagonista ed è esattamente come la saga scrittura dice che vada solo all'albero e poi ebra del suo peccato lo porta ad Adamo questa è un' anticipazione questa qui no? ecco quindi questi due aspetti sono fondamentati non soltanto per capire il peccato originale ma anche per dilatare l'ambito di comprensione della rivelazione ora attenzione che quando Tertulliano e qui torniamo a quello al nostro argomento dice che Eva concepì il peccato che Eva commese credendo dice ma Eva tu ribatti in quel tempo non concepì affatto per la parola del diavolo e Tertulliano dice no ha concepito invece la parola del diavolo fu per lei il seme che la condusse a partorire nell'umiliazione e nel dolore di tra luce infine al diavolo allora attenzione con questo noi possiamo e dobbiamo escludere che per Tertulliano la colpa d'origine fu un atto sessuale perché lui dice che la parola del diavolo fu il seme che la condusse a partorire nell'umiliazione e nel dolore quindi è una cosa che viene dopo Eva prima di commettere il peccato e poi concepisce Caino lo partorisce con dolore e partorisce un assassino ok e quindi lui conclude dicendo il Cristo per salvare l'uomo doveva venire dalla luce da quello stesso organo in cui l'uomo era entrato dopo la sua condanna qui il linguaggio capiamo no è esplicito però in cui l'uomo è entrato dopo la condanna quindi non è che è stato l'atto che ha provocato la condanna ma viene dopo quindi con queste parole gli conferma che solo dopo il peccato ha avuto luogo l'unione carnale essendo l'uomo entrato nell'organo sessuale femminile solo dopo la sua condanna e quindi questo esclude in tertulliano il concetto che il peccato di origine sia consistito nell'unione sessuale stessa c'è infine un'opera che è il no la seconda opera è l'exortazione castitatis allora è uno scritto breve con cui l'autore si propone di convincere un vedovo a non risposarsi dimostrando che il secondo matrimonio non è permessa da Dio ora qui emerge tutta quanta la problematica già accennata del carattere fuori controllo di tertulliano perché numero uno le seconde nozze non sono proibite da Dio ma sono sconsigliate da San Paolo e numero uno le nozze in sé sono recite il matrimonio è un sacramento non è una cosa lui nella sua verba polemica esagera col escludere tocur le seconde nozze e anzi in certi punti sembra anche considerare cattive le prime ecco questo è sempre il come detto no cadendo in quello che poi è il nuovo testamento stesso è scritto sorgeranno degli eretici che avranno delle dottrine estreme negheranno il matrimonio tutte queste cose qui no ecco perché attenzione sempre allora qual è il uno donna è altrui fino a che non diventa sua moglie e peraltro lei diventa sua sposa facendo le stesse cose che farebbe per diventare adultera le leggi sembrano fare differenza tra matrimonio e adulterio perché sono diversi di fronte al concetto di illecito non per la loro natura in sé e infatti quale comportamento è presente in tutti gli uomini e tutte le donne nel matrimonio e nell'adulterio ovviamente il rapporto sessuale desiderabile assimilato dal signore all'adulterio quindi mi chiedi non ammetti neanche le prime cioè le uniche nozze non ha tolto perché anche quelle si basano sulle stesse cose che si fanno quando si commette adulterio quindi il meglio per l'uomo è non sposarsi e quindi la santità della vergine è la più grande perché non ha nulla in comune con l'adulterio ecco qui non si capisce ancora bene come si capisce meglio più avanti quello che dice Tertulliano cioè se semplicemente dice che la la virginità è una condizione migliora migliore del matrimonio o se il matrimonio è proprio da bandire una cosa però è interessante e lo dobbiamo ricordare lui dice ci può essere un celibe o un maritato che desidera una donna dice un maritato non può perché si commette adulterio ma neanche un celibe neanche un celibe perché anche per un celibe ogni donna è altrui e questo rimane vero quando abbiamo fatto la puntata è dedicata alla come dire presentazione sintetica ma chiara di quello che è la perdurante e immutabile dottrina della chiesa sul sesto comandamento abbiamo parlato di queste cose allora di fatto se voi ci pensi quello che sta dicendo se una persona commette il peccato di fornicazione cioè la fornicazione è la congiunzione carnale al di fuori del matrimonio è l'atto sessuale l'atto sessuale è sempre lo stesso sia che uno lo commetta fuori del matrimonio fornicazione dentro il matrimonio atto lecito nel matrimonio con un'altra persona adulterio ma la cosa che si fa è sempre la stessa abbiamo mai pensato questo qui come mai la fornicazione e l'adulterio sono illeciti e invece nel matrimonio soltanto è illecito punto interrogativo capiamo vuol dire che è il matrimonio che interviene e interviene in forza del sacramento a fare qualcosa diciamo così per togliere dalla intrinseca peccaminosità quell'atto figlioli miei cari i rapporti sessuali questo sia ben chiaro sono peccato questo lo dobbiamo sempre tranne che nel matrimonio questo a prescindere da qualunque visione a prescindere da tutto quello che ci stiamo dicendo in questo quindi perché tutto il nostro come dire itinerario ha come scopo l'illuminazione di questa cosa guardate che oggi è completamente smarrita oggi la sessualità viene percepita universalmente come un bene positivo e da liberare e da non sottoporre a nessun tipo di limite per questo che ci sono le propagande anche come dire i movimenti omosessualisti il gender eccetera eccetera perché nella mentalità contemporanea post rivoluzione sessuale la sessualità è uno strumento come dire a disposizione dell'uomo di gratificazione e di ricerca di se stesso di appagamento di ciò che lui ritiene buone opportunità in cui non entra nessuno d'accordo nessuno e per nessun motivo voi sapete che ci sono purtroppo ahimè delle aree della chiesa aree della chiesa è una parola un po' troppo grossa non gliela darei tanto questa importanza ma degli uomini che sono membri della chiesa che come dire propugnano una certa liberalizzazione degli stessi atti omosessuali atti omosessuali con la benedizione della chiesa stessa questa mentalità oggi diffusa non ha risparmiato purtroppo nemmeno è casa nostra nonostante che se uno apre il catechismo della chiesa cattolica l'anno scorso ci ho fatto un ciclo di catechesi e volutamente sul sesto comandamento ho mi sono tenuto alla lettera proprio al testo del catechismo della chiesa cattolica del 1992 in modo tale che nessuno possa dire ah queste sono cose di cent'anni fa queste sono cose medioevo queste sono cose arcaiche la chiesa è cambiata la chiesa non è cambiata affatto la chiesa su questo non può cambiare d'accordo? quindi anche se Tertulliano esagera un po' vedete quando ci stanno questi spiriti inquieti bisogna capire la genialità dell'intuizione e poi sfrondarla dalle come dire dagli svalvolamenti nelle conclusioni quello è uno che pensa attenzione l'atto che fanno la persona celibre che fa fornicazione la persona sposata che ha il coniugio carnale con il proprio coniuge e l'adultero sono lo stesso quindi questa cosa rimane e chiunque cioè pensa altro lui si dice vai ad aprire il catechismo della chiesa cattolica il cristianesimo questo insegna e questa cosa non è cambiata cioè la rivoluzione la rivoluzione sessuale come dire ha portato una ferita enorme e ha causato una degradazione culturale immensa il cristianesimo ci ha messo duemila anni per costruire una società casta quelli l'hanno distrutta in qualche mese aprendo delle diche che adesso ormai sono incontrollabili per cui oggi vivere questa materia secondo la volontà di Dio a tutte le età pensiamo anche ai giovanotti ma anche agli adulti è diventato un'impresa allora vediamo il secondo passaggio quanti uomini e quante donne negli ordini ecclesiastici sono stati scelti per la loro continenza e hanno preferito sposarsi a Dio e hanno restituito l'onore alla propria carne e hanno consacrato se stessi come figli dell'altro secolo uccidendo insieme la concupiscenza della passione e tutto ciò che in paradiso non poteva essere ammesso da ciò si deve ricavare che coloro che vorranno essere accolti in paradiso devono una volta buona tenersi lontano da quel peccato da quel paradiso intanto ora attenzione quello che bisogna ritenere da questi passaggi di Tertulliano è questa cosa cioè che l'unione sensuale in sé è sbagliata perché perché questa quanto meno è entrata nella vita dell'uomo dopo la colpa di origine non è di per sé una condizione degna dell'uomo gli argomenti più forti come vedremo ancora a questo proposito sono i seguenti la virginità perfetta di tutti i membri della famiglia di Nazareth ma anche di San Giuseppe credo che proprio oggi sia stato giusto l'anno giubilare della Madonna di Loreto comunque l'anno di San Giuseppe volge al termine ma San Giuseppe è stato vergine come ho detto nell'ultima catechesi su San Giuseppe più stato dei Santi dedicato alla virginità di San Giuseppe San Giuseppe è stato vergine anche prima di conoscere Maria cioè le leggende scritte nei Vangeli apocrifi blasfeme cioè che San Giuseppe prima di conoscere la Madonna avrebbe avuto delle mogli avrebbe avuto dei figli sono blasfemie sono false sono false quindi se la sessualità all'interno del matrimonio fosse una cosa buona e come dire addirittura nobilitante qualcuno dovrà spiegare come mai se è una cosa buona e nobilitante dentro il matrimonio e non semplicemente lecita è un'altra cosa questo qui qualcuno dovrà spiegare come mai Giuseppe e Maria niente come mai su questo bisogna pensarci bisogna pensare a questa cosa senza preconcetti così come senza come dire le persone che sono un pochino lussuriose nel senso che sono attaccate ai piaceri veneri è chiaro che quando sentono un discorso di questo genere svalvolano è ovvio saltano dalla sedia perché gli si preparava la morte del cuore però ricordiamo anche sempre che ogni essere umano battezzato se non è sposato io questo lo dico deve vivere come me cioè deve fare come se questa cosa non esistesse chiaro le istanze come dire per esempio o omosessualiste nel senso di chiedere alla chiesa che un giorno venga a dire che è possibile compiere gli atti di amore omosessuale non possono proprio esistere non possono perché la chiesa continua ad affermare che non soltanto questo non si può ma nemmeno gli atti eterosessuali si possono compiere se due persone non sono unite dal sacramento del dal sacramento del matrimonio Tertulliana a queste cose c'era arrivato dunque nel paradiso terrestre volendo sintetizzare il pensiero di questo autore non c'era unione sessuale né desiderio sessuale né quindi unione carnale non facevano parte del progetto originario di Dio ed ecco perché Maria e Giuseppe non l'hanno vissuto perché Maria e Giuseppe formano una nuova famiglia dove quello che era il progetto di Dio si vede viene ripristinato sono in loro ma lì cioè la famiglia di Nazareth è l'unicum per antonomasia perché soltanto una madonna l'abbiamo viseggiata l'altro ieri era l'immacolata concezione soltanto Gesù Cristo era il figlio di Dio fatto carne però proprio dello Spirito Santo insomma di vergini e di perfettamente casti insomma oltre a San Giuseppe ce ne sono stati tanti nel corso della storia della Chiesa ecco però di perfettamente casti sposati pochissimi l'imperatore Sant'Enrico che hanno fatto con Santa Cuneconda il cosiddetto matrimonio Giuseppino ma sono pochi i casi almeno attestati nel corso della storia della Chiesa certo non non da dita di una mano ma comunque numerosissimi infine in un'altra operetta il Demonogamia opera stritta in tempi montanisti quindi che è già parecchio alterata inficiata possiamo leggere però un passaggio arrossissi carne che ti sei rivestita di Cristo ti sia bastevole l'esserti sposato una sola volta così come sei stata destinata fin dall'inizio e come sei chiamata ad essere in vista della fine ritorna almeno nello stato del primo Adamo se non riesce a esserlo del secondo quegli gustò una sola volta il frutto dell'albero coibito una sola volta nebbe il desiderio una sola volta con le proprie vergogne una sola volta rossi davanti a Dio una sola volta nasconde il proprio rossore una volta sola fu esiliato dal paradiso della santità e attenzione e una volta sola uscito di là passò a nozzi una volta sola uscito di là passò a nozzi quindi con questo viene ribadito ulteriormente che l'unione sessuale non ha avuto luogo nella condizione originaria prima della disobbedienza ma solo dopo il peccato e l'esilo dal paradiso e che perciò essa non faceva parte del progetto originario di Dio per il genere umano quindi capiamo no? su questa cosa ormai come abbiamo visti un po' i padri della chiesa sono concordi quasi tutti quindi questa cosa cioè quando c'è una concordia di questo genere noi non possiamo fare pinta di niente ricordiamo anche che l'avallo a questo è che Gesù afferma che in paradiso la sessualità non ci sarà nella polemica con i sadicei con i saducei i figli di questo mondo prendono mogli e prendono mariti ma quelli che sono giudicati degni della risurrezione non prendono né moglie né marito quindi che significa? nello stato di paradiso celeste la sessualità non ci sarà ma non c'era neanche nello stato di paradiso terrestre quindi la sessualità i figli di questo mondo è una condizione certamente dipendente dalla colpa d'origine su questo diciamo che non c'è argomento di discussione lo step successivo e qui vedremo che adesso abbiamo il primo autore che lo afferma esplicitamente è ma il peccato originale è stato questo o questo è una conseguenza della misteriosa colpa d'origine Zenone da Verona San Zenone da Verona stavolta grande vescovo di Verona siamo stavolta nel quarto secolo per una ventina o una decina d'anni alcuni dicono al 362 altri nel 372 fino comunque al 380 dopo questo allora la prima cosa che dice come al solito si rimette diciamo nell'onda consueta le omelie qui i brani che analizziamo sono delle omelie delle omelie esiste un altro amore del tutto contrario alla nostra salvezza col quale si accorda sicuramente la disposizione dell'uomo perché è riconosciuto essere effimero e fragile per questo è raffigurato con sembianze panciullesche perché la sua mutevolezza libidinosa non si modera nemmeno negli anni della vecchiaia per questo è nudo perché la sua volontà è turpitudine per questo è alato perché in chiunque si accende velocemente si precipita per questo è munito di frecce di fiaccole perché la spada è sempre unita ad ardori illeciti per questo inoltre è accecato perché una volta infiammato si non considera l'età l'aspetto non considera il sesso la posizione neppure quell'affetto sacrosanto dell'onesto sentimento questo tipo di amore incendiò con i suoi fuochi attenzione il petto di Eva questo tipo di amore uccise Adamo con le sue frecce quindi in questo brano Zerone contrappone all'amore di Dio e del prossimo che ci porta alla beatitudine un altro amore del tutto contrargli la nostra salvezza e prendendo lo spunto dalle raffigurazioni di cupito lo abbiamo capito ecco leggendo il testo descrive le caratteristiche di quest'amore che possiamo definire amore di concupiscenza come un bimbo perché il soldore libidinoso non si spegne nemmeno nella vecchiaia ha affermato come i due anziani che furono presi da un ordente passione per Susanna si legge nella saga scrittura no? moglie di Joachim libro del profeta Daniele capitolo 13 è nudo perché era bravo eccetera eccetera no? qui in poche parole si è lasciato senza premi questo amore di concupiscenza non ha rispetto per niente e per nessuno ma alla fine del brano c'è il punto che ci interessa è questo amore di concupiscenza che incendiò con i suoi fuochi il petto di Eva e uccise Adamo con le sue frecce quindi i progenitori secondo Zenone si infiammarono di amore russurioso e commissero il peccato che li portò alla morte prima quella spirituale poi quella fisica ora però certamente con questo brano soltanto non si potrebbe dire ah San Zenone dice che questo è stato il peccato originale perché la frase è un po' come dire non proprio esplicita al 100% dice questo tipo di amore incendiò con i suoi luoghi il petto di Eva quando però questo tipo di amore uccise Adamo con le sue frecce quando però dopo il peccato originale potrebbe essere non è detto non è detto che questo sia stato il peccato originale è solo che c'è un altro testo dove vedremo chiaramente che San Zenone pensa che il peccato originale sia stato questo e vedremo che è il primo autore in assoluto perché San Clemente Alessandrino pensava che fosse stata una cosa compita prima del tempo San Zenone pensa che sia stato questo il peccato e che questo non c'era prima del tempo non bisogna farlo proprio per nessun motivo di nuovo leggo e cito forse qualcuno potrebbe dire dunque Abramo fu peccatore attenzione all'argomento questo è un argomento che poi ritornerà nella disamina biblica qualcuno potrebbe dire Abramo fu peccatore affinché si circoncidesse o piuttosto fu giusto e non avrebbe dovuto circoncidersi Abramo fratelli fu certo un uomo giusto tuttavia fu necessario che fosse circonciso sappiamo credo che sappiano tutti gli ascoltatori che la circoncisione segno dell'appartenenza al popolo di Israele anche oggi fu da Dio ordinata ad Abramo per sé e per tutti i suoi discendenti dunque Abramo era integro come Enoch e altri fu giustificato e dopo fu circonciso è evidente che la circoncisione di Abramo non fu necessaria per lui ma fu amministrata per l'enerzione del popolo giudaico che in futuro sarebbe stato carnale e quindi a lui non conferì niente perché piacque a Dio prima non dopo che fu circonciso e ricevette il premio non nella circoncisione ma nella non circoncisione della meritata promessa da ciò è evidente che Abramo portava in sé la figura di entrambi i popoli affinché il segno della circoncisione esprimesse il popolo giudeo e la giustizia della fede esprimesse il popolo cristiano ora attenzione aggiungi che questa circoncisione non tanto offre la salvezza attenzione quanto piuttosto indica il luogo e il punto di partenza del crimine infatti Adamo cogliendo con questo membro l'organo sessuale il frutto proibito in latino è illicitum introdusse il diritto della morte nel genere umano per necessità dunque Dio diede questo segno al popolo lussurioso affinché poiché indica chiaramente il luogo della colpa sessuale matricalis della matrice ossia l'organo sessuale femminile il popolo conosca anche gli altri crimini che sono da evitare ora attenzione se non si sta con tutte le persone intelligenti questo io dico sempre che usare bene l'intelligenza e farsi le domande giuste sanzerone si chiede scusate ma perché tra tante cose ma scusate ma perché l'appartenenza al popolo di israele di avvenire attraverso questo gesto così barbaro insomma per certi aspetti un annetto fa ho letto sul giornale da qualche parte che non mi ricordo chi insomma una famiglia non mi ricordo se è musulmana credo musulmana non mi ricordo ma mi ricordo le informazioni insomma hanno circonciso questa creatura e quella era morte insomma perché è un gesto anche un pochino a me fa un pochino depressione anche a pensarci insomma fa proprio senso è una cosa un po' cosino eppure oi cioè Dio è uno non è che Dio ce ne sta non è che c'è l'antico testamento l'antico testamento è l'antico nuovo cioè Dio ha ordinato quella cosa che è andata avanti per duemila anni quasi mica 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 per una settimana o meglio va avanti ancora per il popolo di israele e perché perché questa cosa così se poteva fare un altro un altro modo per per designare la modalità di appartenenza fatte un bel tatuaggio cioè un segno fatte un bel tatuaggio con la stella di Davide sul petto per esempio che ne so io adesso sto dicendo la prima sciocchezza no se uno vuole lasciare un segno indelebile nella carne mica per forza devi fare una cosa del genere e perché e perché lui afferma indica il luogo e il punto di partenza del crimine Adamo cogliendo con questo membro il frutto proibito Adamo lo ha accolto con questo membro Eva no lo vedremo ma Adamo lo ha accolto con questo membro il frutto proibito ed è stata la causa dell'ordine 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 capite che queste espressioni pestano una buona nellata perché a differenza di Clemente Zenone è l'unico ad affermare in modo esplicito che il peccato originale è consistito proprio nell'unirsi sessualmente trasgredendo la volontà divina che aveva progettato un misterioso altro modo per la moltilligazione del genere romano siamo arrivati quindi a un punto significativo diciamo della nostra indagine perché siamo arrivati finalmente a un padre che dice questo fu il peccato originale riprendiamo la settimana prossima amici carissimi per qualche ulteriore step in questo vostro viaggio la mia benedizione su tutti la Madonna sempre io vi protegga a chi ha seguito la diretta una santa notte e a tutti alla prossima la mia la mia che è la mia la mia